Martedì 11 ottobre dei cittadini di Niscemi hanno iniziato una protesta davanti la direzione dell'ASP Nissena. No alla chiusura del pronto soccorso, si legge nei manifesti. Una protesta cominciata intorno alle 7 del mattino sino alle ore 20 circa. I cittadini si sono presentati in via Cusmano con due bare e dei cartelli. Si torna a parlare di sanità dunque e soprattutto di un'altra protesta, a qualche giorno di distanza, da quella effettuata da un gruppo di cittadini di Mazzarino insieme all'amministrazione per richiedere un incontro con i vertici dell'ASP e parlare del futuro dell'ospedale nel comune di Mazzarino. Questa volta invece la protesta arriva dai cittadini di Niscemi, preoccupati per le sorti del suor Cecilia Besarocco. Le nostre richieste e le nostre preoccupazioni sono intanto di mantenere il pronto soccorso, di renderlo autonomo con un'aggiunta di specialisti e di personale idoneo per poter essere efficienti. Poi le preoccupazioni rimangono sempre da parte della politica, dalla volontà politica regionale, quella di sopprimerlo. Ma di sopprimerlo non ne dobbiamo nemmeno parlare, perché noi siamo considerati a quanto pare delle persone non avendo il diritto di servizi sanitari. Noi ci opponiamo a questa cosa, lo facciamo pacificamente e civilmente e anche nelle sedi opportuni penali e amministrative. Per i cittadini sono le difficoltà di raggiungere in tempo per patologie d'emergenza da Niscemi a Gela, perché loro vogliono riconvertire il pronto soccorso in PTE, di postazione territoriale d'emergenza. Da Niscemi a Gela ci sono 40 minuti di viaggio, di disagi, per arrivare al pronto soccorso di Gela e tante patologie d'emergenza non permettono, non danno il tempo, nemmeno di arrivare a vivere al pronto soccorso di Gela.